Il testo è tratto, dall'Evangelo come mi è stato rivelato, di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Capitolo 112 Giuda Iscariota sorpreso a Gerico A Betania da Lazzaro, che presenta Marta 19 febbraio 1945 La piazza del mercato di Gerico, coi suoi alberi e i suoi venditori vocianti. In un angolo il gabbelliere Zaccheo, intento alle sue estorsioni legali e illegali. Deve fare anche un poco il compra e vendidi preziosi, perché vedo che pesa e giudica monili e oggetti di metallo nobile. Non so se dati in cambio di monete, per impossibilità di pagare le gabelle altrimenti, o se venduti per altre necessità. Ora è la volta di una snella donna, tutta coperta da un mantellone di un colore fra ruggine e bigio. Ha anche il viso coperto da un telo di bisso molto fitto e giallognolo, che non permette di vederla in viso. Non si nota che la snellezza del corpo, che tale appare anche e nonostante tutto quel paludamento bigiognolo che l'avviluppa. Deve essere giovane, almeno a giudicare da quel minimo che si vede, ossia una mano che esce per un momento dal mantello e porge un braccialetto d'oro, e dai piedi calzati di sandali non tanto semplici, ma già muniti di tomaia e di un intreccio di strisce di cuoio, per cui si vedono solo le dita, lisce e giovanili, ed un poco della caviglia snella e bianchissima. Tende il suo bracciale senza dire parola, riceve il denaro senza fare obiezioni, e si volta per andarsene. Mi accorgo ora che ha alle spalle l'iscariota, che la osserva attentamente e, quando lei sta per andarsene, le dice una parola che non afferro bene. Ma lei, come fosse muta, non risponde e se ne va all'esta nel suo fagotto di panni. Giuda interroga Zaccheo. Chi è? Non chiedo il nome ai miei clienti, specie quando sono mansueti come quella. Giovane, vero? Pare. Ma è giudea. E chi lo sa? L'oro è giallo in tutti i paesi. Fammi vedere quel braccialetto. Lo vuoi comprare? No. E allora niente. Che credi? E si metta a parlare per lei? Volevo vedere se capivo chi era. Tanto ti preme? Sei negromante che indovini? Ho canne da segugio che sente l'odore. Valà. Datti pace. Se è così, o è onesta e infelice, o è lebrosa. Perciò, niente da fare. Non ho fame di donna. Risponde sprezzante Giuda. Sarà. Ma con quel viso ci credo poco. Bene. Se non vuoi altro, scansati. Ho altri da servire. Giuda se ne va stizzito e chiede ad un venditore di pane e ad uno di frutta se conoscono la donna che prima aveva comperato pane e mele da loro. E se sanno dove abita. Non lo sanno. Rispondono. Viene da qualche tempo, ogni due o tre giorni. Ma dove sta non sappiamo. Ma come parla? Incalza Giuda. I due ridono e uno risponde. Con la lingua. Giuda li insolentisce e se ne va. A cascare proprio in mezzo al gruppo di Gesù e i suoi, che vengono a comperare pane e companatico per il loro pasto giornaliero. La sorpresa è reciproca e non molto entusiasta. Gesù dice. Qui sei. E mentre Giuda farfuglia qualcosa, Pietro dà in una fragorosa risata e dice. Ecco, io sono cieco e miscredente. Non vedo le vigne e non credo al miracolo. Ma che dici? Chiedono due o tre discepoli. Dico il vero. Qui non ci sono vigne e non posso credere che Giuda qui, fra questa polvere, vendemmi solo perché è discepolo del rabbi. La vendemmia è finita da un pezzo. Risponde duro Giuda. E di molte miglia è lontana Keriot, finisce Pietro. Tu mi attacchi subito, mi sei nemico. No, sono meno gonzo di quello che tu vorresti. Basta, impone Gesù. Ma è severo. Si rivolge a Giuda. Non pensavo vederti qui. Ti pensavo quantomeno a Gerusalemme per i tabernacoli. Ci vado domani. Ero qui in attesa di un amico di famiglia che... Ti prego. Basta. Non mi credi, maestro. Ti giuro che io non ti ho chiesto nulla. E ti prego di non dire nulla. Sei qui. Basta così. Ponti venire con noi o hai ancora affari da fare. Rispondi senza riguardi. No, ho finito. Tanto quel tale non viene ed io vado per la festa a Gerusalemme. E tu dove vai? A Gerusalemme. Oggi stesso. Questa sera sono a Betania. Da Lazzaro. Da Lazzaro. Vengo anche io, allora. Vieni pure fino a Betania. Poi Andrea con Giacomo di Zebedeo e Tommaso. Andranno al Getsemni a preparare ad attendere noi tutti. E tu andrai con loro. Gesù marca talmente le parole che quello non reagisce. E noi? Chiede Pietro. Tu con i cugini miei e con Matteo andrete dove vi manderò per tornare a sera. Giovanni, Bartolomeo, Simone e Filippo resteranno con me. Ossia andranno per Betania ad annunciare che il rabbi è venuto. E parlerà loro all'ora di nona. Vanno solleciti per le campagne spoglie. C'è aria di burrasca. Non nel cielo sereno, ma nei cuori. E tutti lo sentono e procedono in silenzio. Quando giungono a Betania, e venendo da Gerico per quella via la casa di Lazzaro si incontra fra le prime, Gesù congeda il gruppo che deve andare a Gerusalemme. Poi l'altro che manda verso Betlem, dicendo Andate sicuri. Troverete a mezza via Isacco, Elia e gli altri. Dite che sarò a Gerusalemme per molti giorni e che li attendo per benedirli. Intanto Simone è abbussato al cancello e si è fatto aprire. I servi danno l'avviso e accorre Lazzaro. Giù da Iscariota, che si era già dilungato di qualche metro, torna indietro con la scusa di dire a Gesù «Ti ho spiaciuto, maestro, l'ho capito, perdonami!» E intanto sbircia dal cancellone aperto nel giardino e verso la casa. «Sì, va bene, vai, vai, non fare attendere i compagni!» «Giuda deve pure andarsene!» Pietro mormorà. «Sperava che ci fosse un cambio di ordine!» «Questo mai, Pietro, so quello che faccio!» «Ma tu compatiscilo, quell'uomo!» «Cercherò, ma non prometto!» «Addio, maestro!» «Vieni, Matteo, e voi due, andiamo presto!» «La mia pace con voi, sempre!» Gesù entra con i quattro rimasti e, dopo il bacio con Lazzaro, presenta Giovanni, Filippo e Bartolomeo e poi li congeda rimanendo solo con Lazzaro. Vanno verso casa. Questa volta sotto il bel porticato è una donna. È Marta. Non alta come la sorella, ma sempre alta, bruna mentre l'altra è bionda e rosea. È però una bella giovane dal corpo armonicamente grassoccio e ben modellato, e dalla testolina morata, sotto cui è la fronte brunetta e liscia, e due dolci e mansueti occhi neri, lunghi, vellutati, fra le ciglia scure. Ha il naso lievemente curvo verso il basso e una piccola bocca molto rossa fra il color brunetto delle gote. Sorride e mostra dei denti forti e candidissimi. Veste di lana azzurro cupo, con galloni in rosso e verde cupo al collo e ai limiti delle ampie maniche corte fino al gomito, da cui escono altre maniche di lino finissimo e bianco, strette al polso da un cordoncino che le arriccia. Anche al sommo del petto, alla radice del collo, sporge questa camicetta finissima e bianca, tenuta stretta da un cordone. Ha per cintura una sciarpa azzurra, rossa e verde di stoffa molto fina, che le serra il sommo delle anche e che le ricade con un fiocco di frange sul lato sinistro. Un abito ricco e casto. Ho una sorella, maestro, eccola. È Marta, buona e pia. Il conforto e l'onore della famiglia e la gioia del povero Lazzaro. Prima era la prima ed unica gioia mia. Ora è la seconda, perché la prima sei tu. Marta si prostra fino a terra e bacia l'orlo della veste di Gesù. Pace alla sorella buona e alla donna casta. Alzati! Marta si alza ed entra in casa con Gesù e Lazzaro. Poi chiede di assentarsi per le cure di casa. È la mia pace, mormora Lazzaro e guarda Gesù. Uno sguardo scrutatore, ma Gesù mostra di non vederlo. Lazzaro chiede e Giona è morto. Morto! Allora l'ho avuto in fin di vita, ma è morto libero e felice in casa mia, a Nazareth, fra me e mia madre. Doras te lo ha finito prima di dartelo. Di fatica, sì, e anche di percosse. È un demonio e ti odia, odia tutto il mondo, quella aliena. A te non ha detto che ti odia. Me lo ha detto. Diffida, Gesù, di lui. È capace di tutto. Signore, che ti ha detto, Doras? Non ti ha detto di sfuggirmi? Non ti ha messo in luce obrobriosa il povero Lazzaro? Sì, credo che tu mi conosca a sufficienza per capire che da me giudico e con giustizia e che, quando amo, amo senza pesare se questo amore può farmi bene o male, secondo le luci del mondo. Ma quell'uomo è feroce, è atroce nel ferire e nel nuocere. Mi ha tormentato anche giorni fa. Mi è venuto qui e mi ha detto che ho già tanto tormento. Perché volermi levare anche te? Io sono il conforto dei tormentati e il compagno degli abbandonati. Sono venuto a te anche per questo. Ah, tu allora sai, oh, mia vergogna. No, perché tua? So, e che perciò. Avrò anatema per te che soffri. io sono misericordia, pace, perdono, amore per tutti e che sarò per gli innocenti. Tu non hai il peccato per cui soffri. Dovrei infierire su te se ho pietà anche di lei. L'hai vista? L'ho vista. Non piangere. ma Lazzaro, col capo abbandonato sulle braccia conserte su un tavolo, piange con singhiozzi penosi. Marta si affaccia e guarda. Gesù le facendo di stare zitta e Marta se ne va con dei lacrimoni che scendono senza rumore. Lazzaro si calma poco a poco e si umilia per la sua debolezza. Gesù lo conforta e poiché l'amico desidera ritirarsi un momento esce nel giardino e passeggia fra gli aiuole dove resiste ancora qualche rosa porpurea. Marta lo raggiunge dopo poco. Maestro Lazzaro ha parlato? Sì Marta. Lazzaro non sa darsi pace da quando sa che tu sai e che l'hai vista come lo sa. Prima quell'uomo che era con te e che si dice tuo discepolo quello giovane alto bruno e senza barba poi Doras ci ha frustati col suo disprezzo questo l'altro ha detto solo che l'avete vista sul lago o i suoi amanti. Ma non piangete per questo credete che io ignorassi la vostra ferita la sapevo da quando ero nel padre non ti accasciare Marta solleva cuore e fronte prega per lei maestro io prego ma non so perdonare del tutto e forse l'eterno respinge l'orazione bene hai detto perdonare bisogna per essere perdonati e ascoltati io prego già per lei ma dammi il tuo perdono e quello di Lazzaro tu sorella buona puoi parlare e ottenere ancora più di me la sua ferita è troppo aperta e bruciante perché anche la mia mano la sfiori tu puoi farlo datemi il vostro perdono pieno santo ed io farò perdonare non potremo la madre nostra è morta di dolore per le sue maliazioni e erano ancora lievi rispetto a quelle di ora io vedo le torture della madre le ho sempre presenti e vedo ciò che soffre Lazzaro è una malata Marta una folle perdonate è una indemoniata maestro e che è la possessione diabolica se non una malattia dello spirito contagiato da satana al punto di snaturarsi in un essere spirituale diabolico come spiegare altrimenti certe perversioni negli umani perversioni che rendono l'uomo molto peggiore delle belle inferocia più libidinoso delle scimmie e lussuria e così via e ne fanno un ibrido in cui sono fusi l'uomo l'animale e il demonio questa è la spiegazione di ciò che ci stupisce come una mostruosità inspiegabile in tante creature non piangere perdona io vedo perché io ho una vista più alta di quella dell'occhio e del cuore ho vista di Dio vedo ti dico perdona perché è malata e guariscila allora la guarirò abbi fede ti farò felice ma tu perdona e di a Lazzaro che lo faccia perdona amala ancora avvicinala parlale come fosse una come te parlale di me come vuoi che capisca te santo sembrerà che non comprenda ma anche solo il mio nome è salvezza fa che mi pensi e mi nomini oh satana fugge quando il mio nome viene pensato da un cuore sorridi Marta a questa speranza guarda questa rosa la pioggia dei giorni scorsi l'aveva mortificata ma il sole di oggi guarda la schiusa ed esse ancor più bella perché la pioggia che permane fra petalo e petalo l'ingemma di diamanti così sarà la vostra casa pianto e dolore ora e poi gioia e gloria va dillo a Lazzaro mentre io nella pace del tuo giardino prego il padre per Maria e per voi tutto a fine così grazie a tutti Grazie a tutti